Pi, 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 e questa è una canzone in allegria, via, quattro amici e poi, poi, ci pensiamo noi, e verso un altro inverno insieme, e questo è un altro inverno di follia, il cammino è noi, più complici se... Buonasera, buonasera. Quindi, i ragazzi di Stile, a prezzo, Anto Q4, Stile Alfa Romeo, siete migliori, un saluto a Randy Orandi, mitico parcheggiatore di Stile, Alex. Allora, andiamo... Allora... 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 Grazie a tutti.